Tu la vedi in maniera giustamente severa perché hai preteso, parliamo delle partite contro l'Arsenal e contro la Juventus, ma se io ti dico che senza l'errore dell'arbitro dentro la traversa sarebbe potuto cambiare tutta la partita, la stagione, la carriera per due episodi? Vi lascio così, se mio non aveva tre palle ero un flipper.